Carissima famiglia della città di Torino e della città metropolitana, anche quest'anno siamo giunti al momento degli auguri di Natale e di buon anno. Un anno, coserei dire, finalmente volge al termine. Quando ci siamo salutati l'anno scorso, esattamente in questo periodo, tutti insieme al Teatro Regio, nessuno di noi poteva immaginare cosa sarebbe accaduto nei 12 mesi successivi. Nessuno di noi poteva pensare che saremmo andati incontro a un periodo storico tra i più duri mai attraversati, segnato da restrizioni della libertà, da crisi economica e purtroppo da molti lutti. Eppure è avvenuto e nonostante tutto vi abbiamo fatto fronte. So bene quali sono stati gli sforzi della maggior parte di voi, penso a coloro che sono rimasti in prima linea per garantire i servizi in presenza, nonostante i rischi, e coloro che da un giorno all'altro hanno dovuto stravolgere letteralmente le loro abitudini. Ringrazio chi ha attrezzato casa sua come un ufficio per poter continuare ad essere utile alla comunità, che è stato costretto a mansioni diverse da quelle ordinariamente perstate con tanta passione, che ha anteposto i bisogni della comunità alle proprie necessità, che è riuscito a modificare l'organizzazione del proprio lavoro, collaudata e consolidata negli anni, che si è prestato ad attività straordinarie per poter aiutare le persone in stato di bisogno, che ha proseguito il proprio lavoro con il massimo impegno, in strada, in mezzo alle persone e sul territorio. Ognuno di voi, operando in tal senso, ha dato il suo contributo alla città per affrontare questa gravissima crisi. Ognuno di voi è parte di qualcosa di più grande che stiamo ricostruendo tutti insieme. Ecco, a tutti e tutte voi, grazie. Sapete infine che questo sarà l'ultimo messaggio di auguri di Natale che vi invierò da Sindac. In questi anni ho avuto modo di incontrare moltissimi di voi, di vivere personalmente, cosa vuol dire lavorare per la cosa pubblica, e di toccare con mano la professionalità, serietà, abbringazione di ciascuno di voi. È stato un'ora per me lavorare insieme e non dimenticherò mai quello che avete fatto. Ancora questa volta, l'ultima, vi ringrazio a nome mio e di tutta la città, che l'inizio del 2021 possa permetterci di girare pagina, tutti insieme. Buone feste a voi e ai vostri cari.